Come avrete notato, utilizzando la nostra resina ipositica, una volta che abbiamo resinato i nostri quadri, troveremo delle gocce al di sotto, dure da togliere. Quindi, come possiamo fare per ripienire questa cosa? Tranquillamente, possiamo ricoprire i bordi dei nostri quadri con lo scotch di carta di plastica, così che quando noi andiamo a resinare i bordi dei quadri, questa resina pula sotto, sopra il nostro scotch, e una volta che sarà essiccata, noi andremo a togliere lo scotch e le gocce che sono essiccate sopra di esso verranno vietate tranquillamente, senza troppi problemi.